alla pergamina segue la il creste simbolo della nostra città grazie avrei sentito odiamo gli amici di questa città tu sei diventato subito troppo amico insomma ti aspettavano da un po' di tempo non siamo riusciti a mantenere diciamo a lungo si è segreta insomma la tua partecipazione qui è un sindaco emozionato quello che domenica sera ha conferito a Claudio Baglioni la cittadinanza onoraria di Pompei il riconoscimento nel corso del quarto anniversario della festa della città è andato al cantautore romano per il suo impegno a favore degli immigrati un attestato di stima che il cantante ha ricambiato regalando al sindaco una maglietta col nome della sua associazione e spendendo parole importanti per la città grazie infinite è veramente un'accoglienza meravigliosa io volevo volevo dire questo che sono in qualche maniera onorato di essere cittadino onorario di di Pompei ma anche per un motivo particolare io otto anni fa nel duemila nell'agosto del duemila sono stato in questo teatro alcuni giorni sono stato nella città di Pompei per fare le prove di un giro musicale di un tour di concerti che ancora io e i miei collaboratori e i miei musicisti ricordiamo come il più bello di tutti dal punto di vista musicale nella stessa serata è stato anche premiato l'ambasciatore della palestina l'evento ripreso dalle telecamere di Metropolis TV andrà in onda nei prossimi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti